Tra poco, sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tragedia Marotta con uno scontro fra auto e moto, muore un giovane di Ponte Sasso, ricordo del presidente della società di Pugilato. Scintilla da Camino in una casa fermignano, gravemente ussionata, una 86enne, bruciatura alle mani per la figlia che la soccorsa. Non si presenta al lavoro, 64enne trovata morta in casa a San Lazzaro di Fano. Niente quorum per approvare i bilanci, salta all'assemblea della carnevalesca, oltre ai baci, sparisce dal programma anche la corsa degli uomini nudi. L'Alma Juventus Fano esonera l'allenatore Giovanni Cusatis, al suo posto arriva Agatino Cuttone. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli. Una donna di 64 anni, nubile, è stata trovata morta nella sua abitazione. È accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 16, in via Bracci a San Lazzaro di Fano. Non presentandosi al lavoro, i colleghi si sono preoccupati per il fatto che la donna non rispondesse né al telefono né al citofono. Allertati i carabinieri, le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, insieme ai vigili del fuoco, che hanno fatto irruzione. La 64enne è stata trovata riversa sul pavimento, vicino all'ingresso. I medici hanno constatato il decesso per morte naturale. La signora viveva in situazioni critiche igienico-sanitarie. Non ce l'ha fatta invece Jacopo Monaldi, il 24enne di Ponte Sasso, che sabato sera è rimasto vittima di un terribile incidente stradale a Marotta. Il giovane che è arrivato in gravi condizioni all'ospedale regionale Torrette di Ancona è deceduto dopo un giorno di agonia. Sabato sera, sono da poco passate le 20.30, siamo a Marotta, una moto percorre la statale adriatica verso Senigallia. In sella c'è Jacopo Monaldi, 24 anni, che incrocia tragicamente la sua traiettoria con quella di un'auto. Lo schianto terribile, il rumore delle lamiere ed un corpo sull'asfalto. Finisce qui, finisce così, la giovane esistenza di Jacopo di Ponte Sasso. La sua moto si è scontrata, per cause ancora da accertare, con l'opel zaffera di un 47enne di Mondolfo che svoltava in via cesanense. Jacopo è grave, se ne accorgono subito i soccorritori del 118, ma lui non molla, è un combattente nella vita e non si arrende subito. Lotta, lotta come ha sempre fatto. Ma il suo cuore, a causa delle molteplici fratture riportate, di cui una alla testa, cessa di battere alle 18 di ieri, all'ospedale Torrette di Ancona, dove era stato ricoverato in rianimazione. Questa volta Jacopo la sfida non l'ha vinta. Lui che di sfide, alla sorte, ricercando sempre i suoi limiti, ne aveva lanciate tante. Aveva scalato montagne in solitaria, l'ultima impresa il Monte Bianco, fermandosi sui 4.000 metri nella parte francese dopo che nemmeno le guide volevano accompagnarlo. Attraversato i deserti, in Australia, e poi il mare, era anche bagnino. E la passione per la boxe, dove metteva tutta la sua potenza, che il fisico che madre natura gli aveva regalato, poteva esprimere. Era un campione Welter Senior, categoria 69 kg. Nella palestra dell'Audax Box Metauro, dove si allenava il suo guantone, campeggia, insieme a quello di tanti altri campioni. E poi un sogno, voleva dare l'esame per i Vigili del Fuoco, sicuramente con la sua tempra, il suo carattere e la voglia di sfida, sarebbe entrato nelle squadre alpine a soccorrere chi è in difficoltà, come ora in Abruzzo, e scavare per strappare vite umane alla morte, che però non ha risparmiato lui. E la notizia della morte di Jacopo ha fatto velocemente il giro della città. E come avete sentito, in questo servizio di Lino Balestra, il ragazzo era anche un appassionato di pugilato. Oggi ha voluto ricordarlo proprio il presidente della società Box Metauro. Jacopo era un matto, era un matto sano però, perché era un ragazzo che amava la vita, era un ragazzo che voleva vivere il tempo fino in fondo, e era uno che proprio aveva fatto del motto Cogli l'attimo, era proprio il suo motto, e quindi gli piaceva mettersi in gioco, gli piaceva confrontarsi, prima di tutto con se stesso. Noi lo conosciamo da quando era un ragazzino, è stato insieme con Ervis e Rukai il nostro primo pugile, i loro due sono stati i nostri due primi pugili nella palestra Audax, e chiaramente adesso perdiamo un figlio per noi. Nella vita di tutti i giorni che ragazzo era Jacopo? Jacopo era un ragazzo serio, era una persona seria però anche irruento, delle volte aveva degli atteggiamenti che andavano al di sopra delle righe, e questo lo caratterizzavano immediatamente rispetto alla media dei ragazzi della sua età, perché comunque non era uno che non fumava, non beveva, gli piaceva la vita sana, e quindi si distingueva in questo dai ragazzi della sua compagnia, però era anche molto socievole, e quindi faceva amicizia facilmente, e aveva un forte legame con i suoi amici. Era anche uno che sapeva essere leader in un gruppo, aveva un bel carattere, era un punto di riferimento. A nome della società che rappresento, l'Audax Box, colgo l'occasione per esprimere le nostre più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia. E' ancora cronaca, paura questa mattina in una casa a Fermignano, in località a Camessere, per due donne che sono rimaste ustionate. Secondo una prima ricostruzione, pare che alcune scintille partite dal camino avrebbero incendiato gli abiti di una pensionata di 86 anni. Le urla della donna avrebbero richiamato la figlia, una cinquantenne, che l'ha trascinata via ustionandosi le mani. L'anziana è stata trasportata a Urbino e poi al Bufalini di Cesena, ed è in grave condizioni. Anche la figlia è stata trasportata al pronto soccorso della città ducale, ma dovrebbe guarire in pochi giorni sul posto i vigili del fuoco di Urbino e i carabinieri di Fermignano. E adesso invece ci occupiamo dell'emergenza neve e terremoto, perché il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, oggi pomeriggio ha riunito a Palazzo Raffaello i parlamentari marchigiani per fare il punto della situazione. Al momento ha precisato il Presidente, contiamo oltre 25 mila sfollati, ogni volta che si verifica un episodio sismico, nuovo, i tempi della ricostruzione si allungano. Ritengo, ha proseguito, che al di là delle posizioni politiche che ognuno ha, sia comunque possibile un percorso indirizzato a quello che di utile possiamo fare per i cittadini e per il nostro territorio. Ceriscioli ha poi chiesto un sostegno concreto sugli emendamenti da presentare in Parlamento che possono dare un contributo alla comunità marchigiana per rialzarsi, a detto, e ripartire. Fra gli obiettivi ci sono quelli di recuperare risorse per i danni provocati, per intervenire sulle scuole e sul sistema economico. Fra l'altro al lavoro, nelle zone terremotate, ci sono ben 49 volontari del gruppo comunale di protezione civile di Pesaro. Invece sono rientrati ieri sera i due dipendenti del comune di Fano e i due volontari del Cibiclub Mattei, appunto, protezione civile, che giovedì scorso si erano recati a Force ad Ascoli Piceno con una turbina spazzaneve per agevolare i soccorsi. Vediamo com'è andata. Il grido di aiuto dei comuni terremotati che in questi giorni sono sotto anche lo scacco della morsa del gelo e della neve non è caduto nel silenzio. Pagine di solidarietà e di sacrificio di comunità che aiutano altre comunità in difficoltà perché potrebbe capitare che gli altri, alle volte, potremmo essere anche noi. Il comune di Fano si è subito messo a disposizione della direzione regionale che ha coordinato la macchina degli aiuti mettendo sul piatto la sua turbina ed il personale e chiesto il supporto dei volontari. Poche ore e a Fano è stato assegnato il comune di Force, così la colonna con la turbina e i mezzi del Cibiclub Mattei per la protezione civile hanno raggiunto venerdì il comune assegnato e iniziato l'operazione di pulitura delle strade in stretta collaborazione e coordinamento con le altre forze in campo. Questa è la turbina che ha lavorato a Force, la protezione civile e i tecnici del comune assieme con un fronte di 2,40 metri affronta e aggredisce la carreggiata sicuramente in maniera più decisa e naturalmente sapere che il comune di Fano ce l'ha, naturalmente per quanto riguarda anche evenienze locali può essere utile saperlo. Noi siamo arrivati su che le provinciali erano transitabili con attenzione e avevano tutto questo grosso coltro di neve e l'altro problema dove accumularla. Quanti chilometri di strade avete liberato? Abbiamo operato sulla parte della provinciale, penso che ragioniamo su una decina di chilometri forse. Nella loro sfortuna, avevano la fortuna che il centro storico, il nucleo storico del paese è zona rossa per cui quella non era accessibile, avevano dei problemi in meno dati dalla neve. La turbina quando opera poi deve scaricare da un lato, nel centro dove ci sono le abitazioni non è in grado di operare tranquillamente, deve fare 3.000 manovre. Un bel esempio questo di volontariato e di comune, quindi di pubblico che lavorano insieme per uno scopo importante. Due volontari sono partiti per le zone colpite da questo evento così inaspettato e imprevedibile e hanno con il loro intervento aiutato e supportato quello messo in atto dal comune, perché comunque la turbina ha operato ininterrottamente per 12 ore al giorno e quindi l'autista della turbina necessitava un cambio. Per noi è stato veramente un ottimo intervento, un ottimo lavoro. Forse nella nostra realtà questa sinergia la vediamo molto spesso, però per altre realtà questa sinergia è una cosa forse anche nuova. In molte località del nostro territorio ieri si è tenuta la tradizionale festa di Sant'Antonio Abate, tra queste anche a Ronco Sambaccio, dove numerosi animali da campagna, fra i quali galline, conigli, cavalli, cani, hanno fatto la loro presenza davanti alla chiesa. A benedirli Don Gianni Petroni, che ha benedetto anche i mezzi agricoli. Ieri inoltre è stato festeggiato anche il patrono Sant'Anastasio. E adesso parliamo invece dell'ente carnevalesca, perché la scorsa settimana, per la seconda volta, è mancato il numero legale necessario per poter approvare il bilancio consuntivo. Il vicepresidente Pacassoni, oltre a chiedere ai soci una maggiore partecipazione, annuncia che non saranno solo i baci a sparire dalla manifestazione, ma anche la corsa degli uomini nudi. Periodo decisamente intenso e stressante per la carnevalesca questo. A complicare le cose e a mettere sotto pressione lente, come è normale che sia del resto, a tre settimane dalla prima sfilata, con i carristi, che stanno lavorando a ritmi serrati. Le ultime cose da mettere in campo, le polemiche inevitabili per gli addi, ai baci per Uggina e allo storico e proficuo sodalizio con il cioccolatino, il programma della manifestazione con le sue nuove scelte e gli addi. Vedi la riuscitissima corsa degli uomini nudi dello scorso anno, depennata dal calendario degli eventi, si aggiunge anche il mancato quorum per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ente, per raggiungere il quale si sarebbero dovuti presentare 170 soci, mentre deleghe comprese si è arrivati a quota 133. Noi una grande attività la stiamo dedicando a riconquistare la partecipazione, e la partecipazione non si inventa, la partecipazione in generale, non solo relativamente al carnevale, è stata una competenza un po' trascurata nella storia recente, quindi anche noi, poverini, paghiamo il prezzo di una partecipazione generale perché la gente si è stufata di non essere partecipe oppure di partecipare solo con una lettera. È un incontro, una riunione di routine importantissima che comunque non scade niente, che rifaremo prossimamente con tutti i crisi amministrativi e augurandoci che sicuramente il carnevale, cioè nel frattempo le manifestazioni che riusciremo a realizzare, di una anche più fiducia alla gente, esprimino ancora meglio quella credibilità che noi vogliamo cercare in mezzo a tante difficoltà perché poi quando si organizzano le cose, le cose non sono semplici, però ce le mettiamo tutte. E adesso invece passiamo agli aggiornamenti sportivi. Matteo Del Vecchio ci parlerà anche dell'esonero dell'allenatore dell'Alma Juventus Fano, Giovanni Cusatis. A te Matteo. Grazie Simona, la pagina sportiva di questa sera si apre inevitabilmente con la notizia dell'esonero di Giovanni Cusatis che da oggi non è più l'allenatore dell'Alma Juventus Fano. A renderlo noto è la società Granata attraverso un comunicato stampa nel quale si ringrazia il tecnico per le doti umane e professionali mostrate in questi mesi e allo stesso tempo si annuncia l'arrivo in panchina di Agatino Cuttone, 57enne siciliano ma romagnolo d'adozione, autore di due salvezze in corsa nel 2014 e 2015 con San Marino e Sant'Arcangelo. Fatale al tecnico Comasco la sconfitta interna per 2-0 subita ieri ad opera dell'Albino Leffe alla ripresa del campionato di Lega Pro dopo la lunga sosta di oltre 20 giorni. Non è bastato al Fano il mercato di riparazione per dare una sterzata ad una stagione che fin qui ha prodotto 12 sconfitte in 22 partite e che vede i Granata sempre più ultimi in classifica a 3 punti dalla zona play-out e a 6 da quella salvezza. Entrambe nella ripresa le reti che hanno condannato ieri il Fano che seppur non giocando un calcio spumeggiante aveva comunque tenuto testa agli ospiti nella prima frazione. La doccia fredda al quinto minuto del secondo tempo quando Andrenacci, che pochi istanti prima si era superato su Montella non può nulla sul tiro a giro di Giorgione che si insacca all'incrocio dei pali. A dare il definitivo colpo del KO all'alma è Montella che al dodicesimo realizza il calcio di rigore fischiato dall'arbitro per un fallo di Zigrossi su Mastroianni. Lo stesso Zigrossi tre minuti dopo ha tra i piedi l'occasione per riaprire il match ma da pochi passi c'entra un clamoroso palo. L'ultima emozione della gara la regala a suo malgrado il neoacquisto Giordano Fioretti che rimedia due gialli nel giro di pochi minuti lasciando i suoi in dieci. Come si vede dalla grafica la situazione per il neotecnico Cuttone si presenta quanto mai critica considerando anche il fatto che Modena e Teramo hanno una gara da recuperare e che domenica prossima la truppa Granata salirà a Padova dove ad attenderla c'è la quarta forza del campionato. Nei piani alti continua la vincente testa a testa tra le big del girone Venezia, Parma e Pordenone distanziate tra loro di solo quattro lunghezze. Apriamo ora una piccola parentesi legata al calcio A5 che nel weekend ha visto scendere in campo solo l'Alma Juventus Fano. È un punto d'oro quello conquistato dai ragazzi di Francesco Ferri nella tana del PSG Potenza Picena squadra capolista del girone D della Serie B. Il 3-3 finale assomiglia molto ad un'impresa non solo per la forza degli avversari ma anche per la rosa ristretta dei fanesi scesi a Porto San Giorgio con gli uomini contati a causa delle cinque squalifiche combinate dal giudice sportivo dopo la nefasta gara della scorsa settimana contro Montesilvano. L'impresa per gli All Blacks poteva assumere risvolti ancora più trionfalistici se non fosse stato per il gol del pareggio locale giunto a 5 secondi dalla sirena. Riposo forzato invece per l'età beta il cui match con l'Atria Teramo è stato rinviato per i noti fatti di cronaca che hanno colpito recentemente l'Abruzzo. In classifica dunque i Granata restano a quota 13 con una gara da recuperare mentre l'Alma fa un piccolo passo in avanti uscendo dalla zona retrocessione. E un piccolo passo in avanti lo ha fatto anche l'Apav Calcinelli Lucrezia nel campionato di Serie C femminile di volley. Le ragazze del neotecnico Morris Meloni infatti in settimana hanno avuto la meglio sul Maicicero Volley Pesaro per 3-0 dando incoraggianti segnali di ripresa. Sabato però le arancionere non sono riuscite a concedere il bis e sono state superate in casa per 3-1 dal Montecchio pur non demeritando. Bene la Virtus in campo maschile che si sbarazza abbastanza agevolmente di un remissivo Senigallia per 3-0. E chiudiamo la rubrica di questa sera con una notizia di rugby perché quella che la settimana scorsa era una sensazione ora è diventata una certezza. Dalla federazione infatti è arrivato il comunicato ufficiale che attesta la partecipazione del fano rugby ai play-off promozione per l'accesso alla Serie B. Il risultato, storico per la società del presidente Livi e per la città di Fano è il frutto del terzo posto conseguito dai Rosso-Blu nella prima fase e, oltre a consentire ai fanesi di giocarsi la possibilità di salire di categoria attesta anche la salvezza matematica alla C1. Sempre in settimana poi? Altra soddisfazione per il fano rugby grazie al proprio dirigente Roberto Ciavaglia primo fanese ad essere eletto nel consiglio direttivo regionale della Federazione Italiana Rugby e con i complimenti al Fano Rugby e a Roberto Ciavaglia si chiude la pagina sportiva di questa sera vi ricordiamo come sempre l'indirizzo mail al quale poter inviare le vostre segnalazioni che è sport.fanotv.it Con lo sport è tutto da parte mia e della redazione sportiva l'augurio a tutti voi di una buona serata. E lo sport conclude questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito buona serata. Grazie a tutti